Ciao ragazzi, benvenuti in un nuovo video del canale Oggi sto provando qualcosa di diverso, sto provando un setup nuovo Quindi, boh, spero che funzioni E per provare il setup nuovo vi porto finalmente un mazzo meta Che non è uno dei miei mazzi meta, cioè un rogue che io porto e gioco nonostante tutto nel meta Ma un mazzo veramente che sta facendo il meta Ovvero, Sword Sultane Quindi, io spero che voi appreziate il nuovo setup Il tappetino della Gabibba che è bellissimo Ringraziamo Yase per quest'opera d'arte Quindi, cominciamo con il main deck Sono 42 carte, mi pare Perché, insomma, ci sono un sacco di carte di engine che servono Che vanno utilizzate E quindi, let's go Allora, ovviamente Tremoye Perché, perché sì Carta molto forte Su Normal rivelate una carta Sword Soul O un mostro Wyrm E mettete un token 0-0, livello 4 Acqua con la clausola che è un tuner Ma non possiamo evocare special dall'extra deck Se non mostri sincro Questa abilità è più o meno condivisa con tutti i mostri da main deck Degli Sword Soul Ovvero, che in qualche modo mettono un token E quel token fa da tuner E ci locca Finché è sul terreno In solo Solo sincro dall'extra deck Quindi, sostanzialmente È una one card sincro Un po' come Non lo so Come Leicester è una one card fusion E i mostri Zodiac Sono una one card exis Quindi È un'abilità molto molto forte Ci permette, ad esempio Con Moie di fare dei sincro 8 Che Quindi, insomma Con una carta sola Basta rivelarne una È un ottimo vantaggio, ovviamente In più Quando lei viene utilizzata come Materiale sincro Ci permette di pescare una carta Eh Insomma Va bene Dopodiché Abbiamo il tre pair Di Long Yuan Long Yuan È un livello 6 Che si speciala dalla mano Scartando una carta Sword Soul O un mostro Wyrm E quando viene evocato specialmente Poi ci mette un token Sempre Il livello 4 Acqua Tuner Eccetera Eccetera Lui invece Quando viene usato per fare sincro Spara dei simpatici Mille e due In faccia all'oppo Così Tanto per Un attimino che Ecco Così È il bello della diretta Ecco qua Perfetto Così si vede un filino meglio Ok Quindi abbiamo Quindi abbiamo sincro livello 8 Sincro livello 10 Ovviamente Sincro livello 10 Generico Viene in mente Ovviamente Il barone Per forza Impossibile non giocare il barone Poi Ultimo mostro Sword Soul Abbiamo il 2x di Sword Soul of Taya Lui invece quando è sul terreno possiamo bandire una Wyrm o una carta Sword Soul E ci permette di evocare il token Eccetera 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 Quindi anche lui monocarta sincro 8 E in più lui quando viene usato per fare sincro Possiamo fare una foolish di una carta Sword Soul o di un mostro Wyrm Che ci può tornare utile Vedremo poi perché Poi Unica carta Diciamo Engine Che non è un Wyrm È il 3x di Ecclesia L'incredibile Ecclesia la Virtuosa Allora Anzitutto è un Tuner Livello 4 Luce Quindi Ci può aiutare a fare sincro senza passare dai token In più Lei si può specialare dalla mano Se l'avversario controlla più mostre di noi Una volta per turno E come effetto si tributa di costo per specialare un mostro Sword Soul O mi pare anche O Fallen of Albats Esatto Mi ricordavo bene Dal mazzo Poi gli altri effetti che ha Non ci interessano in questo mazzo Perché tipo Fallen of Albats Non lo giochiamo Ovviamente lei sarà molto forte Nel mazzo Dedicato diciamo Alle fusioni di Albats Che uscirà con Con Sostanzialmente Lo structure Che dovrebbe arrivare a breve Non ricordo bene quando Ma dovrebbe arrivare Quello sono sicuro che arriva E Un po' troppa luce forse Ok E Insomma Altra carta che aggiunge consistenza Molto forte Giocare la tre Perché è un altro starter Sostanzialmente Si evoca special a caso Tributiamo Evocchiamo Moie Riveliamo Iniziamo a fare le nostre minestre Poi Passiamo alla parte Teni Questo non è Un mazzo puro Quindi L'altro engine che giochiamo È Teni Quindi Due per di Adara Si speciala se non controlliamo Mostri Con effetto E Si bandisce Per dare Un 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 Wirm Dalle bandite Alla mano E in più è un Tuner livello 1 Che fa sempre Comodo Poi Tre per di Vishuda Si bandisce Se controlliamo un mostro Non con effetto Ok Quindi tutti I Teni hanno l'effetto Di specialarsi Se non controlliamo Mostri Con effetto E attivare un altro Effetto Se controlliamo Mostri Non con effetto Va bene Tre per di Vishuda In questo momento Non sto giocando Shtana Che è quello acqua Ma si può giocare Tagliando Vishuda Ma a me fa schifo Quindi per ora Sto giocando Vishuda Tutto qua Vishuda livello 7 Che Bounsa Una carta Dell'avversario E Il Tre per di Ashuna Che Ci speciala Un Un Teni Da mazzo Bandendosi Ultimo Ma non per importanza Questa carta Probabilmente verrà Hittata dalla Banned Arcine Nemesis Protos Allora Lo so Che questo mazzo Potrebbe essere Hittato dalla Banned Da qui a Oggi pomeriggio Per dire Ma è una settimana Due in realtà Che aspettiamo La sta Banned Del cazzo E Non è mai uscita Io sono due settimane Che sono qui Come un pirla Che non posso Fare il video Allora a sto punto Lo faccio Così almeno Sicuramente Per la legge Di Murphy Adesso Finito Inizio a editare Ed esce la banda Per forza Per forza Protos Protos Si evoca Bandendo Tre mostri Con Attributi Diversi E noi Ne controlliamo Una Scaterva Dopodiché Quando è sul terreno Possiamo dichiarare Un attributo Di un mostro Sul terreno Distruggiamo Tutti i mostri Di quell'attributo E il nostro avversario Non può evocare Mostri di quell'attributo Fino alla fine Del suo prossimo turno Ovviamente Lui non può essere In più Lui non può essere Distrutto dagli effetti Delle carte Quindi Finché lui sul terreno Possiamo dichiarare Darkness E Dark Non dark Ok Oscurità L'avversario Non può evocare Mostri di scurità Per esempio Roba che blocca Giusto un paio di mazzi Tipo Ma Vabbè Insomma Carta tumore Nuo VFD Bannatelo per favore Perché ha rotto le palle Basta E qui Abbiamo finito I mostri In engine Diciamo Poi Possiamo spelle trappole 3x Di emergenza Emergenza Ci permette di addare Un Sword Soul Dal deck alla mano Ma Roba rotta Se controlliamo Un mostro sincro Possiamo addare Un Wyrm Qualsiasi Quindi questo Ci tuttora Protos Che dire Va bene Dopodiché Monocopia Di Sacred Summit Sacred Summit È un Monster Reborn Di archetipo Quindi Reborn Come si chiama Reborn Sword Soul E Entrambe Se vengono Bandite Possiamo Targettare Un Un Sword Soul O un Wyrm E aumentare O diminuire Il loro livello Di 1 Ci tornerà utile Questo effetto A breve Poi Due pair Di Circo Del drago Celeste Non Circo Circo Mi raccomando Tributiamo Un Wyrm E diamo Un altro Wyrm Dal deck Alla mano Poi Se controlliamo Un mostro Non con effetto Possiamo specialarlo Ma Dichiamo I suoi effetti Poi Durante La main phase Se controlliamo Un mostro Non con effetto Face up Ok Possiamo bandire Questa carta A dare Un Teni Dal deck Alla mano Possiamo usare Solo un effetto Per turno E solo una volta Per turno Quindi va bene Sostanzialmente Questo ci permette Di doggiare Eventuali Removal Eventuali Cazzi Non lo so Tributandoci Un Wyrm E addando Un altro Wyrm Alla mano Poi Trappole Due pair Di Sword Soul Blackout Si lo so Ne gioco due Perché sono una pussy L'effetto forte È che Targettiamo Un Wyrm E due carte Sul terreno Dell'avversario Wyrm Nostro E due carte Sul terreno D'avversario Spacchiamo Tutti e tre Quindi è un Icarus Attack A tema Wyrm In più Quando viene bandita Ci mette il solito Tokenino Del cazzo Livello 4 Blablabla Quindi ci permette Di doggiare Un po' Di rotture Di palle Se ad esempio Su Moyet Viene negata E abbiamo Longgan in mano Possiamo comunque Portare fuori Longgan Fare Il tokenino Sincrare con Moyet Nel livello 8 Di archetipo Che poi vi farò vedere Ci permette di bandire Una carta dal mazzo Banniamo questo E facciamo barone E via E ciaone E l'oppo si becca Comunque due negazioni Sul terreno E da qui Non si scappa Poi Visto che Il mazzo Ha un engine Abbastanza contenuto Avete visto Non sono tantissime Carte Ci permette di giocare Un sacco di carte Non engine Che ci aiutano O per la consistenza O Come entrap Sostanzialmente Per fermare L'avversario In qualche modo Quindi Io gioco Due per di Vayler Tre per Di Ashblossom Tre calici E tre imperma Come entrap In realtà Poi calice E Vayler Potete Non so Levare un calice E mettere un Vayler In più A me calice Piace un sacco Come carta Perché è settabile Insomma È un po' più Secondo me È un po' più Flessibile Di Vayler Nidemi Imperma Però Vayler Effettivamente È utile Perché non è Once per turn Quindi Cioè Rispetto ad Ashblossom Ad esempio Non è once per turn Poi in realtà Tutti effetti Replicabili Insomma Molto 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 Utili Io Li terrei Comunque In considerazione Dopodiché Il 3x Della jarra Dei desideri Per bannarvi Tutte le carte Di engine E pescare palta No scherzo Per consistenza Poi Consistenza Vabbè A me Tra le jare Non piacciono Molto Ma è sto mazzo Veramente Talmente Ridondante Che Andare Andare Veramente A bannare Qualcosa Di fondamentale Di vitale È un po' Dura Guarda L'unica cosa Gioco Due Blackout Apposta Ma Non è Fondamentale Ecco Comunque Altre Raccomandazioni Non ne ho In particolare Giocate un po' All'entrap Che volete Io sto giocando Quelle più generiche Ovviamente Non è Una Non è un mazzo Che è Così O morte Dopodiché Vabbè Monaco Delteni 3x Quindi passiamo All'extra deck E Sciamano delteni Monocopia Niente da dire Sono solo Dei target Per Per fare Link Eccetera Perché Vabbè Monaco Ci mette Un bel Mostro Non con effetto Sul terreno Quindi ci abilita Tutti gli effetti Dei Dei Teni Ci potete Di scombare Quando apriamo Conteni E Going second Poi è abbastanza Forte Poi Due per Di Shishao Shishao è Un sincro di Archetipo Molto interessante Che è un livello 8 E fa Danegazione Per Mostro Andando A bannare Una carta Di archetipo O un Wyrm Dal No Non è vero Ma sì Andando a bannare Una carta Di archetipo O un Wyrm Dal cimitero Targettiamo Un mostro E gli facciamo Veiler Sostanzialmente Lo annulliamo Gli effetti In più Quando viene Sincro evocata Possiamo dare la mano O bandire Una carta Di archetipo Questo è Bastanza Utile In alcune situazioni Poi Mono Sheshing Va bene Questo Livello 10 Lui invece Semplicemente Prende più cento Per ogni carta Bandita Quindi diventa Grosso Perché se attivate Desire E già più mille E fa perdere Di effetto Continuo La stessa quantità Di attacco E difesa Al I mostri Dei avversari Se sta per essere Distrutto Possiamo invece Bandire una carta E non viene distrutto Se una carta Lascia Viene bannata Da qualsiasi Cosa Possiamo bannare Una carta Dal Dal terreno E dal cimitero Del nostro avversario Mi ricordavo bene Se era solo Terreno Cimitero Ma si È solo Terreno Cimitero Ma deve essere Una da entrambe Le parti Quindi Deve avere Anche dei target Legali Va bene Possiamo attivare Solo l'effetto Una volta Per turno E via Va bene A questo punto Direi che L'altro Sincro Da presentare È ovviamente Il Baron De Fleur Che È un livello 10 Molto simpatico Vabbè Tanto lo conoscete Carta che si gioca In tipo 50 massi Altro livello 10 Simpatico È il Dragorosa Carminio E Direi che L'ultimo Mostro Generico È Dragite Che Niga Magia Trappola Se abbiamo Un mostro Acqua al cimitero E Tanto abbiamo Mostri Acqua al cimitero Questi sono Diciamo I tre Generici Che possiamo fare Dopodiché Ovviamente Scombando Con i Teni Ci locchiamo In In Wyrm Quindi Quali sono i mostri Wyrm Che possiamo fare Possiamo fare Draco Berserker Oppure Quello che usiamo Più spesso È Depeer Di Baxia Chaofeng Che possiamo Con cui possiamo Scalare Evocando Il tunnel Livello 1 Teni Facciamo Quello E Ad esempio Baxia Into Chaofeng Chaofeng Attiverà L'effetto Con Baxia Che è andato Al cimitero Di bloccare I mostri Luce Quindi Spegne Gli effetti Di mostri Luce Dell'avversario Nel senso che L'avversario Non li può Attivare Quindi Non so Non può Attivare Veiler Non può Attivare Golden Lord Non può Attivare Nibiru Per esempio E Ultimo Non per importanza Che è l'unico Livello 7 Che gioco Yazimale Dello Yangzing In pratica Qui per farlo Dobbiamo andarci A bandire Una carta Dalla cimitero Una carta Di archetipo Sorsol Dal cimitero Per andare A downgradare L'effetto Il livello Di un Di un Yangzing O di un Wyrm Per andare Poi a fare Gli azzi Altra carta Che potete giocare Potete provare Per esempio Qualche livello 9 Per esempio Shenshen Shenshen Si può usare Non lo so Io ho preferito Non metterla Perché mi sembrava Più forte Mettere Due Baxia Perché Baxia Si usa già un po' di più Perché si può usare Sia andando primi Che andando secondi Quindi Averne due Meglio Ma Volete fare un po' Quello che volete Ecco E niente Questo era tutto Per Per il mazzo Io Spero vi sia Interessato Anche se è un mazzo meta E ormai Di questo mazzo Probabilmente l'avete visto In tutte le salse Possibili Immaginabili Su 200.000 canali Ai tornei Probabilmente non ne potete più Lo volete vedere bannato Eccetera Che sarei anche Molto d'accordo In tutto ciò Ma va bene Niente Io vi saluto E vi do appuntamento Al prossimo episodio Ciao Ciao